Ben ritornati sul mio canale, eccoci qui con un nuovo episodio di CTR Nitro Fueled Andiamo a prendere oggi la roba in colle tempesta Pizze sul ghiaccio che non adoro particolarmente Premiamo triangolo per saltare e iniziamo la gara Che voce ha? Ok, lì c'è una scorciatoia ma è diventato difficile prenderla No, 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 no Ma avevo usato la Nitro per proteggermi Cioè in realtà l'avevo lasciata indietro perché l'avevo lasciata indietro Diciamo che avrebbe dovuto proteggermi Carina la skin di Tiny così Sì, benissimo Volete lanciarmene un altro? Un c'ho due senza tre, no? Devo superare il Coco, dai Coco Chanel Ancora riusciva a togliersi la TNT dalla testa Nooo Ragazzi Coco non ci molla Gli piacciamo, gli piacciamo, è nostra Madonna come ha rallentato tutta la neve Dai fammi arrivare No eh, no eh Siamo arrivati alla fine della gara saltando dopo esser stati colpiti Ok, di poco abbiamo vinto Continuiamo, abbiamo sbloccato la skin Velo Vero Turchese Guardate che mi faccio fiera Voglio utilizzare un po' Crush Dai che adesso do un po' che non lo usiamo Usiamo quello normale Confermiamo, andiamo a prendere Gettoni CTL Continuo a dirlo, i caricamenti sono troppo 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 lenti Spero non facciano l'errore che hanno fatto con La Insane Trilogy Anche perché Vabbè, l'abbiamo mancata La sì Dicevo, spero non facciano lo stesso errore della Insane Trilogy Perché sono passati dall'avere il caricamento lunghissimo Ad averlo corto E non far leggere neanche i suggerimenti Per chi ne ha bisogno Abbiamo mancato anche la R Molto bene Ma giuro che ce la faremo Non mi ricordo che ho fatto qualcuno Per essere coerenti abbiamo mancato anche la C Va bene, adesso le prendiamo tutte Iniziamo dalla T No, male, male Uh, che bello che le ha schiacciati tutti e due Mi raccomando, adesso appigliamo la lettera Ok Madonna, ma quanta roba c'è in quel punto Ok, abbiamo preso tutto Ultimo giro Possiamo Dedicarci ad arrivare primi e basta O almeno cercare di farlo Pensavo di mancarlo all'ultimo Uh Ma questi due Non li avevo mica visti Non si riesco a raggiungerli Ma che tiny adesso si può saltare in aria E noi andiamo a vincere Bello, bello, bello Mi è piaciuto Mi è piaciuto Perché ho fatto un errore gravissimo Intanto CTR Gettone rosso 40 gettone Ho sbloccato una nuova skin Digo dai il panda Bellino, bellino Molto bello E andiamo a prendere la reliquia Ho un brutto presentimento Mi sa che Su questi qui Per chi ha seguito tra l'altro la serie di Crash Sa che odio i livelli col ghiaccio E questi qui non fanno eccezione Il brutto presentimento sta nel fatto che non so se Riesco a prendere la reliquia al primo colpo Soprattutto se continuo a mancare le casse No, vabbè Cioè a volte è più facile prenderle che mancarle Io invece Dai Sono andato a sbattere per prendere quella cassa Allora io non l'ho neanche presa No Non ho manco preso la cassa Cioè son caduto e basta Dai Oh Dai salta su Abbiamo ancora 30 secondi per Poter prendere la reliquia Ce la faremo Non lo so Mi sa di no Mi sa di no Mi sa di no No non ce la facciamo No Ah sì ce la facciamo ma alpedissimo proprio Bah Vabbè Dai va bene Non fa niente Pura 45 secondi ci mette Sì sì lo so Non ho una delle prestazioni migliori di questa serie Ma comunque abbiamo preso la reliquia al primo colpo Quindi se il video vi è piaciuto lasciate un grande like Se non vi è piaciuto lasciate un dislike Iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina E noi ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao